Salve a tutti da Arpapi, ragazzi l'età avanza e io me ne accorgo sempre di più quando andiamo in giro e vediamo qualcuno col telefonino in mano, qualche persona un po' anzianotta col telefonino in mano che si sta a picciare, il primo pensiero che vi è a tutti è quello di dire ma chi ha dato a questo il telefonino? Ma può essere che c'è nessuno che aiuta questo povero anzianotto col telefonino, è quello che è successo a Arpapi perché? Mi sono dovuto prendere il telefonino nuovo che il mio ormai dopo 5 anni non c'entrava più niente dentro, c'era memoria strapiena, cancellavi tutto ma era sempre in memoria, abbiamo un macello, un macello allora ho deciso di prendere il telefonino nuovo, per il telefonino nuovo quando si fa il passaggio da un telefonino all'altro bisognerebbe fare il backup delle conversazioni archiviate di Whatsapp e noi ce ne avevamo ben 1700, ce ne avevamo perché? Perché le abbiamo perse tutte le abbiamo davvero perse tutte, allora le persone che hanno ordinato qualcosa giorni addietro quindi nella settimana questa in corso, maglie, braccialetti, se ci rimanano il messaggio perché noi abbiamo perso tutto, io non so più chi ci ha richiesto qualcosa e che dovete fare? Non è cattiveria, è l'età che avanza, si vede pure no, il papi vedi che c'è pure una certa età, barbetta bianca vuol dire che c'è un po' d'età avanzata e di conseguenza con l'età avanzata mi sono picciato pure io col telefonino in mano adesso inizio a capire pure i vecchiotti che si impicciano so come funziona l'altro giorno, vi dico solamente questo, l'altro giorno dentro un negozio dei telefonini è entrato un vecchietto, ce l'avrà avuto intorno a 75-80 anni che gli ha detto a quello, gli ha detto oh bello, guarda che il suo telefono mi ruba i sordi perché se stava a impicciare con tutte le varie applicazioni e aveva scaricato di tutto è così, succede anche al papi, io invece non ho scaricato niente mi sono dimenticato proprio di scaricare tutte le conversazioni di whatsapp e siamo rimasti a zero, non sappiamo davvero le cose che ci hanno richiesto se volete rimandateci il messaggio, mi raccomando fate i bravi, non è cattiveria ma l'età che avanza tutto questo succede a casa del papi ma tutto questo succede per l'Italia a quattro zampe ollus perché le cose che avevano richieste erano proprio dell'Italia a quattro zampe ollus e ci davano la possibilità, rimandateci il messaggio, ci davano la possibilità di essere quello che siamo tutti i giorni la voce di tanti pelosetti del mondo Grazie a tutti